Io chiamo sul palco il capocannoniere del campionato di promozione Paolo Scenolese e il capocannoniere di prima categoria degli otto gironi Lorenzo Buonaccorsi Grazie Sì, io sono a voi ringraziato, questa è una situazione così importante che mi sono e queste micro che sono a fare Le vostre esigenze quali sono? La tua è la sporchisio, giusto? La mia forchisio sono truthamente un formannitore delle diverse sportive Dici Trading Haben Eh Cosa vuole dopod Eh, cosa vuole sa cuore Nare le sue деньги Signale 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 Alla tua azienda Generità vogliete aspettare come poter collaborare si si va bene allora ragazzi mettetevi al centro voi siete voi i protagonisti giovanissimi quanti gol 20 a forte dico tu sei 8 gironi 39 gol è colui che ne ha segnati di più la tua scuola che è per campionato che se no cioè che si è vero sei un anno o no ok chi deve far mettere il mondo non c'è ogni soldi senti il campionato di promozione invece è difficile si è difficile ci sono squadre non trovo organizzate non siete per il pubblico mi sbaglio cioè non avete questa no io quest'anno mi sono andato la prima punta perché la nostra memoria è solo come quello del Napoli ma beh cioè tu non partendo ma anche però sei veloce quindi immagino diciamo che con l'intera teccato ti puoi regare diciamo te no e 4 4 2 2 non fanno o 3 5 2 perché mi chiamato a scuola esterno cioè dentro quindi l'allenatore chi è il tuo allenatore? Giuseppe ok allenatori che fanno cari da lavoratori per il calcio ragazzi rimanete nelle vostre squadre o ma io e Gianchi c'è fatti domande ok ok tu sei sul mercato anche tu sul mercato io non ho visto in mercato eh abbiamo un lato però tu sei lui è sul mercato un certo 42 42 no 42 42 42 42 42 42 quindi è qui le aziende premiano i bomber siciliani è qui